Ciao, sono Antonio Ciacca, pianista jazz e compositore. Vi aspetto quest'estate dal 17 al 21 luglio per il CEM Summer Camp, Jazz Summer Camp 2021. Parleremo di jazz, quindi parleremo di blues, swing e improvizzazione. Vi aspetto. Ciao, sono Valto Antonio Mattiello, docente di chitarra jazz al CEM Summer Camp 2021 che si terrà a Bucine dal 17 al 21 di luglio. Ti aspetto. Salve a tutti, sono Mauro Campobasso, chitarrista. Vi aspetto per il corso di jazz del Summer CEM 2021 dal 17 al 21 luglio, quest'estate, per suonare, studiare e imparare tante cose con tantissimi docenti a partire dal sottoscritto. È una grande full immersion e un gran modo per rincontrarsi e stare bene dopo un periodo duro e difficile per tutti. Vi aspetto. Ciao, sono Flavio Volto, vi aspetto al CEM Summer Camp 2021 dal 17 al 21 luglio. Non mancate, vi aspetto numerosi, saranno cinque giorni fantastici e molto intensi. Ciao a tutti. Ciao, sono Pietro Tonolo, ti aspetto al CEM Summer Camp 2021 dal 17 al 21 luglio. Non mancate, ciao. Salve a tutti, sono Dario Di Ida, vi aspetto al CEM Summer Camp 2021 dal 17 al 21 luglio. Non mancate. Ciao. Ciao, sono Attilio Zanchi, ti aspetto al CEM Summer Camp 2021 dal 17 al 21 luglio. Non mancate, ciao. Ciao, sono Massimo Manzi e ti aspetto quest'estate al CEM Summer Camp 2021 dal 17 al 21 luglio. Ci vediamo lì, non mancate. Ciao, sono Tiziano Tononi, ti aspetto al Summer Camp del CEM dal 17 al 21 luglio. Non mancare, ci vediamo lì. Ciao. Ciao, sono Eleonora Dettole, ti aspetto al CEM Summer Camp 2021 dal 17 al 21 luglio. Non mancare.